bella a tutti ragazzi sono la Mirko benvenuti su gameplay channel e su Supermarket Simulator allora ragazzi apriamo subito il nostro locale perché quest'oggi devo farvi vedere come diciamo la mod ha influito sulla quantità di clienti dopo l'ulteriore espansione che abbiamo fatto al negozio allora io per adesso ho messo questi frigo qua quelli che erano laggiù così almeno abbiamo lasciato un po più libera la zona della cassa in attesa poi che ovviamente si sblocchi anche questa ulteriore parte così magari da sistemarli un po meglio perché qua non mi piacciono un granché quindi magari volevo mettere i freezer qua adesso vediamo vediamo c'è un po di idee in testa ma prima devo sbloccare questo cacchio di angolo che diciamo così mi dà particolarmente fastidio però vabbè diciamo che per quest'oggi per il momento ci occupiamo giusto dei nostri clienti allora mi funziona la mod perché in realtà l'avevo messa io per errore in una cartella che non c'entrava nulla la mod diciamo del limite di 10 articoli ordinabili di volta in volta quindi in realtà adesso possiamo ordinare tutti gli articoli in un unico enorme ordine devo dire ed è una cosa sicuramente molto più comoda perché per l'appunto ci permette di fare un solo ordine e avere direttamente tutta la roba senza dover star lì a fare 18 mila ordini separati anche perché poi quando si iniziano a avere più licenze e quindi tanti prodotti è veramente una rottura di balle dover fare 50 mila ordini differenti quindi così sicuramente molto molto più comodo allora come vedremo adesso non so quanti clienti mi manderanno da quest'oggi ma come vedete io ho fatto un po di giorni off camera infatti siamo a livello 50 eravamo forse nell'ultimo gameplay a livello 48 se non ricordo male quindi insomma ho fatto comunque un altro livello e quindi appunto più o meno un paio di giornate diciamo off camera e devo dire che sono andate particolarmente bene nel senso che i clienti ne abbiamo avuti veramente tanti questo oggi per l'appunto vedrete quindi questo ci aiuta sicuramente andare avanti un po più velocemente perché come detto per le nuove licenze devo necessariamente aspettare il livello 56 e una volta eventualmente arrivato a livello 56 andrò a ritogliere la mod diciamo che dà più clienti più che altro perché lo vedremo stasera con la fine giornata me ne sta facendo arrivare veramente veramente tanti quindi nel momento in cui andremo a sbloccare nuove licenze ovviamente la mod ce ne farà arrivare ancora di più stessa cosa per le nuove espansioni quindi dopo rischia di diventare veramente un suicidio totale di conseguenza mi interessa giusto arrivare a livello 56 un po più velocemente perché come detto comunque più clienti ci permettono ovviamente di aumentare di livello più velocemente perché insomma noi aumentiamo di livello grazie a ogni cliente che paga guadagniamo cinque punti esperienza quindi chiaramente se abbiamo più clienti l'aumento di livello sarà decisamente più veloce di conseguenza vedendo insomma quanti clienti ho fatto off camera sicuramente la terrò ancora fino arrivare a livello 56 perché così almeno riesco ad aumentare insomma velocemente fare anche un po più di soldi e di conseguenza eh poter andare avanti eh nel gioco allora io andrei un attimo però a pagare le fatture perché infatti mi ricordo che ne avevo un po però mi conviene poi chiudere la cassa se no se no qua non mi fanno fare una mazza di nulla adesso vediamo anche quanti clienti sono arrivato con la cassa perché eh ne ho fatta parecchia di cassa nei giorni off camera diciamo così eh quindi in teoria in teoria siamo beh oddio 1065 siamo ancora ben lontani dai 1750 che dobbiamo eh per l'appunto raggiungere eh allora io andrei a ordinare ancora qualcosina perché come detto iniziamo ovviamente ecco infatti a eh calare insomma con le nostre scorte in maniera abbastanza drastica anche perché mh come vedrete appunto poi a fine giornata con la quantità di clienti che sto facendo ovviamente devo fare ordini eh molto più spesso rispetto a prima chiaramente però vabbè si guadagna molto di più quindi eh direi che ci sta assolutamente che bello non dovermi vedete che siamo a 12 non dovermi più preoccupare appunto del eh dei 10 diciamo eh di 10 articoli ordinati per volta è veramente una grandissima figata perché almeno faccio un ordine unico e sbada buffete ok boh eh chiaramente alcune scatole vabbè non mi ci stanno però non è un grande problema era già eh in preventivo questa cosa senti questa te la metto qua così posso anche fare così e posso fare magari così che tanto di queste ne facciamo fuori a iosa perfetto perché queste due cosa mi hanno messo qua ah ma perché ne avevo già 25 perché mi segnala che ne avevo 0 scusatemi eh non capisco questa cosa vabbè comunque non è un grande problema eh spaghetti tanto anche questi li facciamo fuori abbastanza in fretta quindi sì dai qua ne abbiamo ne abbiamo ancora parecchi va bene così ok dai adesso dovrebbero accendermi un attimino le luci perfetto vedete che inizia a formarsi una coda tremenda le casse eh con questa mole di clienti si fa coda le casse quindi necessariamente devo fare cassa anch'io eh perché se no i clienti si iniziano a lamentare che c'è troppa fila alle casse perché eh per l'appunto nonostante i miei cassieri siano più veloci grazie per l'appunto alla mod comunque non ce la fanno a stargli dietro quindi eh necessariamente gli devo dare un aiutino eh però vabbè questo mi fa anche comodo perché così nel frattempo aumentiamo anche per l'appunto eh il nostro numero totale di clienti eh allora cento novantotto ci sono tanto alcuni clienti che pagano eh anche sopra i duecento trenta euro cioè pagano veramente veramente tanto quindi insomma infatti come vedete siamo arrivati eh ormai quasi a diecimila quindi buono così anche per quanto riguarda i soldi e insomma guardate quanta fila c'è alle casse eh infatti poi come detto la toglierò anche perché con così tanti clienti credo che non essendo previsti dal gioco mi inizia anche un filino a laggare come potete vedere perché vabbè credo che insomma il gioco non sia ancora ottimizzato per gestire effettivamente così tanti clienti perché credo che neanche nel eh nel gioco base con tutto sbloccato ne arrivino così tanti tutti insieme e quindi chiaramente insomma iniziamo a avere anche qualche piccolo problema di lag per cui per forza di cose poi vabbè adesso sto anche registrando quindi mi peggiora anche ulteriormente però comunque vabbè insomma sicuramente eh come vado a espandere qualcosa o sbloccare qualcos'altro devo per forza di cosa e toglierla la mod perché se no eh rischia veramente di darmi un po' troppi problemi insomma ma anche proprio a livello di gestione eh perché comunque facciamo facciamo davvero fatica a gestire tutto allora 84 e 55 anche perché poi eh i miei magazzinieri impiegano veramente una quantità di tempo mostruoso per rimettere a posto tutto quello che tutti questi clienti comprano eh 199 e 60 perfetto vedete siamo già arrivati a 12.000 euro aspettate chiudo un attimo cassa vabbè che ormai sono le 9 quindi non posso comprare più niente va bene eh allora vediamo un attimo se posso mettere via qualcosa di questo no queste non le ho ancora messe via queste neanche vabbè dai il magazzino è comunque ancora abbastanza pienotto vediamo se ho finito completamente qualcosa ma linea di massima non credo il problema grosso che poi appunto devo cacchio l'acqua in bottiglia ho quasi finito ma è possibile seriamente ho quasi finito già l'acqua in bottiglia porcaccia boia porcaccia boia che bordello anche il riso stiamo andando maluccio è un po' tutte le cose a dire la verità a dire la verità un po' tutte le cose perché come detto la quantità dei clienti è veramente veramente grossa dai apriamo ancora un attimino cassa così diamo un ulteriore mano ai nostri se nel caso gli serve eh a questi livelli ragazzi veramente il negozio me lo svuotano è veramente il negozio me lo svuotano i miei quattro magazzinieri cioè impiegano ma tipo un buon 25 minuti reali a rimettere tutto quanto a posto è veramente veramente un qualcosa di assurdo niente ho in cassa meno arriva più nessuno se sono offesi quindi niente così non so se avranno trovato tutto no che uno è arrivato perché probabilmente qualcosa mi sa che è anche finito nonostante gli ordini ma necessariamente ho idea che qualcosa sia finito sì lei forse non aveva trovato qualcosa è venuto fuori la scritta ma non ho visto che cosa probabilmente l'acqua mi sa che quella no ma qua ce l'avevo però l'acqua perché mi insegnava che ero a zero quasi boh forse non l'avevano ancora messa non lo so vabbè vabbè adesso vediamo comunque sì qualche prodotto sicuramente non l'avranno trovato è tipo questi qua sotto no qua sotto non avevo niente che cacchio è che è finito non riesco allora yogurt ne ho quello ne ho quello ne ho ma io per adesso non vedo niente totalmente finito no a meno che non l'avessi finito a bella cartigenica ecco cosa la cartigenica sì probabilmente qualcuno non avrà trovato la cartigenica qua cartigenica devo fare un altro scaffale mettere posto nel magazzino e perché cacchio mi sposti io veramente ragazzi io odio i miei magazzinieri quando mi spostano le cose proprio mi dà un fastidio che non ne avete un'idea non ne avete veramente un'idea non so neanche come facciano perché in teoria non potrebbero fa sta cosa però c'è guardato il succo qua cioè mi fanno di quei casini allucinanti e mi mandano in paranoia col magazzino perché poi alla fine non mi trovo le cose perché ma me le spostano loro e gli schifosi cioè quello che non riesco non riesco a capire che alla fine me le spostano loro e me fanno dei casini assurdi va bene comunque siete pronti per vedere quanti clienti abbiamo fatto oggi ne abbiamo fatti 116 mamma mia ragazzi sì un solo prodotto non trovato ok quindi insomma è una quantità di persone veramente veramente mostruosa perché come detto ovviamente la mod si comporta comunque come il gioco base che in automatico vi aumenta comunque leggermente la clientela quando aumentate il livello quando ha comprato una nuova licenza piuttosto che ampliate il negozio noi avendo fatto bene o male tutte queste cose insieme perché abbiamo ampliato abbiamo aumentato il livello eccetera ovviamente la mod me li ha aumentati secondo i canoni della moda e di conseguenza siamo arrivati per l'appunto a fare quasi 120 persone quindi veramente una quantità di gente che sinceramente non riesco più a gestire perché come avete visto oddio neanche tanto non riesco più a gestire perché alla fine solo un prodotto non è stato trovato probabilmente la carta igienica che è finita verso verso la fine però faccio veramente fatica perché devo fare comunque io una marea di casse vabbè da quel punto di vista potrebbe anche andar bene però il problema che diventa veramente fin troppo fin troppo esagerato da gestire quindi mi fa comodo adesso perché vedete che eravamo all'inizio livello 50 siamo già quasi alla fine e quindi mi viene comodo perché comunque riesco a aumentare di livello più velocemente quindi anche a proseguire nel gioco più velocemente quindi quello mi va assolutamente bene problema che poi chiaramente più andiamo avanti più aumenta ancora la gente diventa poi veramente ingestibile tutta questa affluenza di gente per cui sicuramente non appena arrivo a livello 56 la tiro via perché se no non ce la faccio davvero a gestire tutta sta gente allora quindi prendiamo un bel po di roba come vedete vabbè devo spendere ovviamente tanto per riuscire a rifornire tutto il mio magazzino anche perché bisogna calcolare che loro adesso hanno appena iniziato a rimettere via tutto sugli scaffali quindi insomma tante cose finiranno ulteriormente di conseguenza di conseguenza sarà un bel macello allora prendiamo anche questo la candeggina possiamo aspettare un attimo prendiamo di questi almeno due cioè vedete che adesso ho ordinato 42 articoli avrei dovuto fare 5 ordini differenti 4 e mezzo diciamo invece qua ordino tutto assieme in un'unica botta e sicuramente è più comoda una cosa del genere allora anche qua questo è finito pronti adesso spero che non succedano devastis boom no in realtà tutto ci stava in magazzino forse giusto un paio di scatole che sono rimaste fuori però vabbè non è un grandissimo problema anche questa vedete che nel frattempo è finita io infatti adesso quando gioco off camera solitamente faccio un primo ordine abbastanza grosso con proprio le cose in cui sono a zero completamente poi man mano vedete che loro riforniscono riordino di nuovo tutto ciò che nel frattempo i miei magazzinieri tolgono dal magazzino perché se no chiaramente mi ritrovo quando apriamo comunque di nuovo senza scorte in magazzino perché loro nel frattempo le hanno tirate via di qua e le hanno messe sugli scaffali quindi mi trovo poi un po' sempre nella stessa identica situazione allora in realtà solo questa non ci stava boh vai tu a capire dove cacchio l'hanno messa ah è questa qua sopra ok si era questa infatti vabbè vediamo se ci sta nel frigo che gli do gli do una mano io va no in realtà qua è già tutto pieno infatti è l'unica cosa che avevo piena vabbè la lasciamo qua per adesso poi poi me la vado a sistemare dopo allora vediamo di queste robe qua no in realtà non posso mettere nulla forse queste cacchio ne è rimasta una dimmi che ci stati prego dai cacchio per una ma porcaccia la miseria mi è toccata nella scatola per una bottiglia sola ma mannaggia la miseria va bene allora anche se non hanno ancora assolutamente rifornito tutto io comunque quasi quasi riaprirei nuovamente il negozio perché tanto bene o male vedo che si non hanno rifornito tutto però insomma non gli manca tantissimo a voler guardare quindi io vado nuovamente a riaprire il negozio così almeno vediamo di insomma andare un attimino avanti e farci anche questa seconda giornata prendo già la roba che come vedete sta comunque man mano finendo così prendiamo anche un succo d'arancia prendiamo un altro riso prendiamo un altro di questo prendiamo assolutamente un'altra cartigenica due di miele vabbè pollo direi che ne abbiamo sacchetto di patate anche prendo un altro zucchero a velo prendiamo un altro ketchup un'altra salsa un'altra maionese di questi ne ho e prenderei ancora uno dei prodotti per pulire questa cartigenica in linea di massima ce l'ho e direi che siamo a posto ok dai così almeno abbiamo riempito nuovamente nuovamente il nostro il nostro locale poi adesso vediamo man mano che si svuota madonna già quanta gente c'è alle 10 mattina e già inizia già a essere strapiene inizia già a essere strapiene perché sono curioso di vedere adesso cosa facciamo in questa ulteriore giornata vediamo un attimino come detto siamo a livello 50 credo che con questa giornata arriviamo tranquillamente a livello 51 insomma forse anche un bel pezzettino avanti del livello 51 per cui come detto poi cercherò di giocare qualche altra giornata off camera in modo da andare avanti ancora un po' quei livelli così da poter riuscire a togliere nuovamente la mod a livello 56 ed essere pronto per sbloccare altre tre licenze perché poi in realtà a livello 56 diciamo che ne andiamo a sbloccare tre fondamentalmente quindi poi le possiamo pian pianino comprare tutte e tre così almeno ci sistemiamo con calma il locale facciamo tutto magari adesso cerco anche di arrivare a 20.000 per sbloccare un'ulteriore parte del locale così abbiamo lo spazio per sistemare tutta la nuova roba e insomma sistemarlo a dovere per cui cerco di approfittarne adesso appunto finché ho la mod per fare tutte queste cosine qua perché poi come detto l'idea è toglierla perché se mi aumenta ancora veramente ragazzi non ce la faccio a stargli dietro veramente cioè se mi inizia a far arrivare 150 persone non so davvero come fare per riuscire a stargli dietro va bene riapro la cassa così gli do un attimo una mano perché se no iniziano a lamentarsi ovviamente della coda in cassa allora l'unica cosa bella di così tanta gente che siete veramente tanto impegnati nel senso che comunque dovete veramente stargli dietro un casino dovete fare cassa, dovete fare ordini quindi è bello perché vi mette un bel po' di pepe nel di dietro nel senso che comunque non è così rilassato come quando invece senza mod che ripeto ho fatto un unico ordine alla mattina e bene o male siete a posto per tutto il giorno cassa anche se non la fate non ce n'è così gran bisogno quindi alla fine non è che avete tantissimo da fare senza la mod con la mod devo dire che il gioco di sicuro acquista un bel ritmo su quello poco ma sicuro ecco lo fa diventare indubbiamente molto molto più frenetico quindi da questo punto di vista se vogliamo anche un bene però come detto veramente paura che mi aumenti che mi aumenti troppo e poi non riuscire più a gestirlo o comunque che magari succeda qualche casino mi crash il gioco perché comunque come detto è una mod quindi il gioco non è pronto a ricevere questo volume di clienti vediamo poi magari con i prossimi aggiornamenti probabilmente andranno a modificare aggiungere varie cose quindi magari riusciremo anche a gestire una mole decisamente più imponente di clienti anche perché avrei bisogno come minimo di altri due se non tre magazzinieri per riuscire a rimettere a posto tutto non solo durante la giornata ma poi anche quando finisce diciamo così la giornata e quindi devono rimettere a posto tutte le cose per il giorno successivo per cui è veramente veramente un bel casino allora ok così siamo a posto almeno gli do una mano ragazzi perché se no qua se no qua veramente non gliela fanno do una mano a loro e nel frattempo cerco anche di controllare man mano come siamo messi a scorte perché poi peraltro non solo sono così tanti ma come vedete ordinano anche veramente uno sboato di roba allora 55 perfetto dai chiudimela un attimo la cassa che andiamo a fare un controllino questi te li posso ributtare qua questi sono a posto così quindi quindi allora ordinerei ancora una di pasta una di farina sicuramente questo degli altri spaghetti siti infatti tanto adesso li faranno fuori latte due di torta e devo ordinare mamma mia mamma mia quanta roba che devo ordinare ok candeggino ne prendiamo anche un'altra cartigenica assolutamente sì pollo va bene patatine fritte due sacchetto di patate caffè due iniziamo a prendere sta roba qua che così iniziano a metterla via ok ragazzi allora ho fatto un altro ordine anche l'altra cartigenica è finita sugli scaffali ed era completamente finita anche in in magazzino che cacchio ho fatto vabbè senti lasciamolo qua per adesso poi l'ho risposto come detto non ce la facciamo a stargli dietro cioè non ce la faccio veramente a a ordinare e diciamo in tempo perché guardate quanta cacchio di gente c'è cioè non riesco veramente più a a gestirla tutta sta gente quindi eh non necessariamente ragazzi va benissimo la moda adesso come detto siamo arrivati già a livello eh cinquantuno come del resto immaginavo ma eh necessariamente necessariamente poi la dovrò la dovrò togliere perché se no non ce la faccio non ce la faccio davvero a stargli dietro non ce la facciamo veramente a stargli dietro quindi per forza di cose dovrò far così riepriamo la cassa perché c'è coda in tutte le casse come vedete eh ho già coda in tutte le casse quindi necessariamente devo dargli un aiuto come mai pagato ah no con questo ok e quindi è un casino abbiamo comunque quindicimila cinque e novanta eh buono il prossimo eh ingrandimento lo posso fare comunque a livello ah no con venti e passa mila mi sembra quindi comunque vabbè non ce la facciamo ancora eh ma meglio così perché comunque come detto finché ho la mod non voglio ingrandire niente non voglio prendere nuove licenze finché appunto non la tolgo perché se no se no è un casino se no mi aumenta ancora la gente mi fanno veramente uscire pazzo per cui per adesso per adesso evito ragazzi accumulo semplicemente un po' di soldi eh arrivo a livello 50 cos'è che era 56 e e poi la tolgo perché così almeno sto tranquillo almeno vediamo anche il gioco vanilla cosa ci propone aumentando ancora eh il locale sbloccando una nuova licenza quanti clienti arriviamo diciamo con il gioco vanilla credo se già prima ne facevo 66 credo forse un 70 75 più o meno credo giù di lì che comunque sono già un ottimo numero quello ha già eh non trova la coscia di pollo perché come detto no i miei non ce la fanno a stargli dietro non ce la fanno davvero i miei magazzinieri comunque a rimettere tutta la roba probabilmente alcune cose le ho anche finite proprio in magazzino ma oltre a quello comunque sia non ce la farebbero in ogni caso a rimetterle in tempo eh però va bene come detto finché non raggiungo il livello mi va anche bene così poi se qualcuno non trova qualcosa non è un grandissimo problema insomma eh va bene allora allora vediamo un attimino niente ho le robe che ho qua comunque non me le prendono maledetti loro maledetti loro vabbè eh allora di queste le avete prese no ovviamente no eh sarà finita una maria di roba poi vabbè io adesso ho anche aperto il negozio eh allora solitamente mamma mia guarda anche qua che disastro ma ma hanno sembrato che sono passate le cavallette eh io anche adesso ho aperto il negozio senza neanche dargli il tempo di rimettere completamente tutti gli scaffali pieni eh perché di solito quando gioco off camera gli do tempo ai magazzinieri di riempire tutto gli do solitamente una mano anch'io e quando è tutto completamente pieno allora apro il negozio eh perché comunque vabbè con cento e passa clienti è impensabile aprire un negozio quando ancora non tutta la merce è esposta sugli scaffali se no è ovvio che qualcosa finisce inevitabilmente durante la giornata quindi solitamente faccio così adesso per esigenze ovviamente di registrazione video ho aperto eh subito appena ho finito di fare l'ordine anche se in realtà sugli scaffali comunque mancava ancora un sacco di roba quindi vabbè è abbastanza normale che eh ho finito solitamente non trovano mai nulla che manca quando gioco gioco off camera con calma riesco comunque sempre a mantenere tutto presente sugli scaffali eh correndo parecchio come detto perché ovviamente devo correre parecchio però comunque riesco tranquillamente a fare questa cosa ehm senza troppi problemi adesso ribadisco però devo lasciarli un buon venti minuti a risistemare tutto poi vabbè se gli do una mano io impiegano ovviamente anche meno però eh se devo lasciarli fare loro nonostante siano in quattro venti minuti come minimo ci impiegano anche perché oggi abbiamo fatto centodiciannove clienti quindi siamo veramente a centoventi clienti insomma sono veramente veramente una ehm una caterva di clienti prodotti non trovati cinque come del resto eh immaginavo però va bene anche così che magari se manca qualcosa la mod me ne fa arrivare un po' meno il giorno dopo che anche se mi fa arrivare quattro cinque clienti in meno non è un male anzi mi va anche bene perché anche qua adesso li dovrò rilasciare eh come minimo un altro venti minuti a risistemare tutto poi dovrò rifare l'ordine man mano che loro mi svuotano il magazzino eh finché non riempiono come detto tutto nuovamente però ribadisco per il momento eh mi fa comodo questa cosa perché almeno siamo arrivati già a livello cinquantuno quindi in realtà fra eh cinque livelli siamo in grado di prendere nuove licenze eh a breve con questa giornata sono tranquillamente in grado anche di eh aumentare ulteriormente eh diciamo il nostro negozio prendendo la sezione dieci che ci costa ventimila e cento eh che insomma sono gran bei soldoni eh però come detto a me interessa soprattutto il discorso delle licenze per cui adesso cercherò eh di fare il possibile per appunto andare avanti a giocare off camera in modo da ehm riuscire magari arrivare a livello cinquantasei così per l'appunto nel prossimo video da eh iniziare a sbloccare già la eh prima delle tre nuove licenze che appunto sbloccheremo a livello cinquantasei quindi ragazzi io come sempre vi invito a lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti e attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube il testino grazie sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay ciao belli